ragazzi oggi vi volevo far vedere una cosa sono a casa mia nella mia stanza per la qualità del video però mi si è rotta la fotocamera mi è arrivato un pacco non un pacco che già ho scartato me l'ho scordato di fare il video e mi sono arrivate le storie del mistero di lion finalmente era da un sacco che volevo leggere ve lo metto a fuoco ecco non vi faccio vedere nessuna pagina perché non voglio spoilerare ma finalmente mi è arrivata lion le storie del mistero volevo solo dire che sono bellissima adesso me le vado a leggere tutte quante e ci vediamo a un prossimo box opening però senza il box vi faccio vedere solo quello che mi arriva quindi ci vediamo bye ciao ragazzi